Ma perché non reagite? Avete tutti bisogno di alloggio. Io ci sono stato nelle vostre case, ho visto come vivete. Vi ho fatto un sacco di domande. Pensavate volessi farmi i fatti vostri? Beh, è così, voglio farmi i fatti vostri! Vi ho forse offesi? Mi guardate come se fossero vostre, quelle ville! Insegno cui contraddiceto. Segno destinato a creare contraddizioni. Colui di fronte al quale si deve scegliere. Lo sai come va a finire quando ci sono di mezzo di più? E' Lorenzo Milani, tremate prechi! C'è Lorenzo Milani! Ma tu credi veramente che si possa costruire la vita di Dio in te? No! Ma c'è un plan di te che ci prova! E' meglio che se la torna la torna! E' meglio che la torna! Se lei non mi onora oggi, con un qualsiasi atto solente, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato, come qualcosa di simile all'opera di un pastore protestante. Ma io sono stato sempre e solo fedele alla mia Santa Madre Chiesa. E questo lei lo sa bene. Cordialmente vostro. Lorenzo Milani. Faccio il dono. Poi perché non voglio con il Signore, cioè autore di libro, ma con la gioia che qualcuno ha capito che per scrivere non occorre né genio né personalità. Perché ci sono regole oggettive che valgono per tutti e per sempre. E l'opera è tanto più arte proprio quando segue quelle regole e si avvicina al vero.